Musica Ma ragazzi la prima cosa veniva a dire è caratteri Diceva Mirko che inizia stagione un po' fuori forma però alla fine Sudata Sudata di brutto alla fine si è riusciti a vincere Il primo tempo siamo stati un po' indietro sul gioco, un po' lenti Dobbiamo ancora un attimo recuperare e riprendere la forma Però finalmente me lo abbiamo vinto Sono andate un po' in crisi Beh in crisi no però come al solito eravamo in pochi Invece loro lo sembravano inundici quasi in campo Però alla fine ce l'abbiamo fatta La maglia gialla stavolta ha portato fortuna quella con cui avete vinto Quella verde non so si rivedrà oppure? Quella verde all'esordio ha portato male Però non crediamo a queste cose Comunque siamo inizio stagione, siamo un po' imballati Oggi abbiamo dimostrato di aver carattere E di esserci meritati comunque il campionato scorso Adesso vediamo di entrare in forma e fare sempre meglio Una cosa che vi dico è che non si vede a questi livelli Solitamente squadre che vanno sotto che vanno per forza a vincere E che riescono tranquillamente a continuare a giocare Forse per quello che è tanto campionato E anche un pizzico di tranquillità nell'agonismo Ma tranquillità nell'agonismo si Si giocare la palla senza buttarla via Senza tirare da centro campo Si senza fare magari giocate difficili Giocando la palla facendola girare Prima o poi comunque si dice un buco si trova E riusciamo a segnare La squadra degli altri è un tosti Magari non li avete mai incontrati Però è una squadra che è rognosa a affrontare Fisicamente a... Si comunque come ho detto prima erano in tanti Più che altro E il cambio noi comunque ci mancano un po' Ma comunque si erano comunque bravi anche tecnicamente Ci ha messo anche un po' in difficoltà Calcoli ne avete fatti? Guarda per passare il turno cosa vi serve? Ma sarebbe stato meglio fare il quarto gol In teoria Infatti dopo il terzo gol Continuavamo ad attaccare Però beh c'era poco tempo Adesso si spera comunque Nella sportività delle squadre Che non facciano il cosiddetto biscotto Noi comunque cercheremo di vincere Con la quarta squadra E vedremo come andrà a finire Va bene complimenti ragazzi Alla prossima Ciao 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 Ciao